Raffaele Paganini presso la Ter Ballet di Soverato, un momento importante per la danza, per la scuola, per le allieve, per le insegnanti e ovviamente per la città che hanno una presenza così importante qui. Io la ringrazio, però è anche un momento importante per me, perché in realtà tutto ciò che è la nostra carriera, poi si sviluppa in grandi spettacoli, grandi cose, che però a un certo punto devono finire per una questione proprio di età, giustamente. E a noi resta dentro tutta quella esperienza di cui io parlo sempre, e la dobbiamo tirar fuori. E dove la tiriamo fuori? Con i ragazzi. Quindi per me è una gioia essere qui, essere qui, io faccio molti di questi stage, di questa specie di spettacolo, di inizio spettacolo se vogliamo, o di ciò che riguarda lo spettacolo. Quindi è un grande piacere anche per me essere qua. Non sono emozionato, ma sono orgoglioso di essere qua, perché se ci emozioniamo anche noi, poi i bambini, è finita, noi dobbiamo essere imperterdi. E poi trovo molto interessante e intelligente il fatto di dare questa emozione ai ragazzi, chiamando noi professionisti, che abbiamo avuto una vita alle spalle di lavoro, di danza, comunque abbiamo vissuto la nostra vita attraverso la danza, e i ragazzi che ti guardano e si devono esibire davanti a te, e io dico questo perché ricordo quando succedeva a me, quando ero un ragazzo, ed è un'emozione grandissima che non si dimentica mai. Quindi complimenti a Maria Grazia, complimenti alla struttura, complimenti a tutti, veramente. Ecco, nello specifico come verranno esaminati gli allievi? Allora, noi prima li mettiamo, di solito li mettiamo alla sbarra, o comunque iniziano con il centro, e iniziamo ad esaminare se i ragazzi hanno già una postura adeguata per la danza, perché poi quella è la cosa più importante, no? È la partenza. Quindi dalla sbarra si fa tutta la lezione, è una lezione che sono degli esercizi che si ripetono sistematicamente per almeno 40 anni, un ballerino non smette mai di studiare la danza classica. E quindi dopodiché andranno al centro e faranno ancora delle esibizioni senza più il sostegno della sbarra, quindi sempre un pochino più complicato, e poi molti di loro, i più grandi celli, faranno anche dei piccoli virtuosismi e io dovrò giudicare se sono giusti o sbagliati. Non tanto giudicare loro, perché chi si può permettere di giudicare qualcun altro, però giudicare l'esercizio, quindi sarà una cosa, come dire, non troppo formale, perché poi a me piace anche giocare o non giocare un gioco, divertirmi, no? Nelle cose, voglio vedere anche l'errore, perché l'errore ci sta bene e poi mi fa piacere anche dare qualche consiglio, non tanto ai bimbi, ma quanto alle insegnanti, no? Ladove ce ne fosse bisogno. Ed è per questo che diventa poi bello, alla fine di una carriera come quella che è stata la mia, come quella dei professionisti, insomma quella di tutti noi, tirar fuori qualcosa e regalare qualcosa a questi ragazzi. E sui talent Paganini non usa mezzi termini. Per quanto riguarda invece i talent, guardi, è un'arma a doppio taglio, perché il talent ha fatto sì che la gente conoscesse in fondo e profondamente la danza, cioè quanto meno meglio. Il vero problema del talent, sai chi lo subisce, il vero trauma? Lo subiscono quelli che partecipano, che inizialmente fanno e mi hanno preso ad un talent, che però l'anno dopo si rinnova. Per cui tu sei, come diceva lei giustamente, famoso per sei mesi, dopodiché è finito. O sei veramente un grande talento. Però mi viene anche da pensare, non lo so, è una mia idea, quando io avevo 19, 18, 20 anni, che ero già un etuale internazionale, probabilmente se mi avessero chiamato per un talent, io ero molto bravo. Io ne parlavo prima con la direttrice della scuola, io ero molto bravo. E ricordandomi oggi, anche per i tempi, ero molto bravo. E non so se avrei mai accettato un talent, perché ero già molto bravo. Quindi questi ragazzi che sono famosi, commercialmente parlando, visivamente, per sei mesi, poi dopo per loro è un problema ricominciare, a rimettersi a studiare con tutti gli altri, perché dopo un anno arrivano altri 50 ragazzi, 40, non so quanti sono, e poi ne arrivano altri 50. Ogni anno cambia. a doppio taglio, perché ha fatto conoscere la danza un po' più a livello commerciale, la gente sa di cosa parliamo, no? Prima dicevi, faccio il ballerino classico, la gente faceva, sì, e per lavoro cosa fai? Per mangiare cosa fai? Non capivano bene. Ha fatto capire tante cose, però i ragazzi spesso, io poi qualcuno lo incontro, insomma, che diceva, insomma, poi dopo quello sono stato un po' famoso, poi adesso non riesco a trovare lavoro, perché il concetto è, quelli veramente bravi non me ne vogliate, però quelli veramente bravi non ci vanno ai talent, cioè quelli veramente bravi non ci vanno ai talent. È stato chiaro Raffaele Paganini, che ora vedremo all'opera, quindi la lasciamo, la congediamo dall'intervista, ed è stato un piacere anche per noi, grazie. Grazie a voi, a prestissimo, grazie. Sì, crescita dei bambini, ma sicuramente di noi, noi che aspiriamo ad essere insegnanti, che lavoriamo per essere insegnanti, non perché questo titolo ci è nato così. Per me è un momento di crescita e di conseguenza è un momento di crescita per i ragazzi, di emozione, di tutto. È un momento che si ripete ogni anno qui presso la vostra scuola? Sì, ogni anno noi facciamo una verifica di fine anno. Ripeto, è una verifica che viene presa come momento di esame per la scuola, per capire se stiamo sulla buona strada, se stiamo lavorando bene, ci aspettiamo dei consigli da questi professionisti, che ci tengo a dire, in Calabria ce ne sono tantissimi, tantissimi insegnanti bravi, in gamba, validi. Noi giovani, tra virgolette, contiamo del loro aiuto, della loro collaborazione. Tante volte ci avvaliamo anche di questi personaggi, che sono dei professionisti, che sono stati dei ballerini internazionali, proprio per capire che tipo di lavoro stiamo facendo e se lo stiamo facendo bene. Sicuramente avere Raffaele Paganini qui a Soverato è un momento di orgoglio per tutta la città. Ringrazio Maria Grazia, che è sessito, per cui è stata possibile questa cosa. Anzi, la devo un po' riproverare perché onestamente ci ha fatto sapere la cosa un po' più tardi, un po' non in tempo, e secondo me avrebbe dovuto dare un maggior risalto a questa cosa. Perché comunque avere un artista internazionale della portata di Raffaele Paganini non tutti i giorni succede in tutte le città. Però mi ha promesso che ci ritornerà a trovare in altre situazioni e quindi spero che lui possa ritornare. Un bravo e un grazie anche a Maria Grazia e a tutto lo staff dell'Uther Ballet, perché comunque io penso che per i ragazzi sia importantissimo, perché comunque fare uno sport o comunque un percorso tutto l'anno per poi arrivare alla fine dell'anno e avere di fronte Raffaele Paganini. È una possibilità che Maria Grazia ha dato alle sue allieve. È una cosa importantissima e un giorno se ne ricorderanno e comunque anche questo aiuterà molto la crescita dell'artista, di ognuno.